Cioè, guarda cosa c'è qua, figlio, alla faccia dell'inseminazione, mamma mia! Oh, e la tua camera? Ma perché non l'allargate, io mi domando? Oh no, giù dritti, dritti, andiamo! Andiamo! Oh no, giù dritti, 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 dritti. Grazie a tutti. No, andiamo lì a fare il pezzo nuovo da pulire, dopo ti porto. Che fettenti ho, tutti, guardali. No, andiamo lì. 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 Come sempre sei giotto e abbandonato. No, andiamo lì. 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 No, andiamo lì.